Iniziamo con Mancino Ricorda che come accennava Pierpaolo prima riguarda una armosia che noi vogliamo forse far guarire attraverso una musicoterapia ipnotico-regressiva ed è un episodio del 1 luglio 1992 segnato nell'agenda grigia di Paolo Borsellino, quella che si è salvata, mentre quell'agenda rossa sappiamo che è scomparsa in cui è segnato un appuntamento che il senatore Mancino non riesce a ricordare. Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.